Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, oggi siamo qui per fare il punto della situazione perché questa sera ci sarà Manchester United, Young Boys e Atalanta, Villareal perché vi nomino anche l'Atalanta col Villareal? perché questa sera saremo in live sulla boutique del calcio, proprio su questo canale per vedere tutte e due le partite, perché sì ormai ragazzi noi stiamo a punteggio pieno cioè nel senso ormai stiamo agli ottavi, test agli ottavi, primi in classifica possiamo anche perdere 4-0 contro Young Boys se siamo primi quindi ci godremo la partita dello United ma anche la partita dell'Atalanta col Villareal che è sicuramente la partita più bella di questo turno di Champions League ma tralasciando questo e ritornando sul pre-partita per quanto sia una partita poco importante per il risultato poco importante per la classifica, è una partita importante per l'ambiente è una partita importante per i calciatori perché già stamattina sono uscite fuori delle notizie molti calciatori non verranno chiamati oppure faranno il turno di riposo cioè andranno a finire in panchina per dare spazio alle seconde linee seconde linee come Martial, seconde linee come Ederson, seconde linee come Van de Beek come tantissimi altri calciatori che hanno poco spazio o che troveranno poco spazio questo cosa significa? Che questi calciatori, a noi tifosi ma soprattutto al nuovo allenatore Ralf cosa devono dimostrare? Di poter giocare titolari quindi io questa sera da questi ragazzi mi aspetto una spinta in più mi aspetto grinta, voglia mi aspetto quella cosa che molte volte ai titolari manca la voglia, la voglia di prendersi un posto tra i titolari perché è una cosa importante per un giocatore per esempio come Martial che comunque sia ancora giovane, ha 24 anni buttare via un anno di stagione così è anche brutto per la sua carriera quindi io mi aspetto da questi calciatori quella grinta in più che forse i titolari non hanno ovviamente lo Young Boys non è da sottovalutare io non è che mi aspetto che andiamo contro lo Young Boys e andiamo a vincere 4-0, 5-0 perché non è così ragazzi il gioco di Ralf, i difetti, domani e dopo domani ci sarà il secondo episodio dei problemi di questo Manchester United ma tralasciando questo ragazzi lo spoilerando il secondo episodio ci sono parecchi problemi da risolvere che si sono visti anche col Palace perché andando a riguardare la partita andandola a studiare ragazzi ci sono dei problemi soprattutto in mezzo gravi non dico un po' siamo migliorati ma si vede sempre quel problema che abbiamo in fase difensiva in mezzo al campo che bisogna assolutamente risolvere quindi io stasera non è che mi aspetto 4-0 anche perché l'allenatore è arrivato adesso e più domani giocheranno le seconde linee quindi che mi posso aspettare non mi posso aspettare un Marziale che già capisce le tattiche o Van de Beek questi calciatori qui però mi aspetto quella grinta in più quella voglia in più voglio vedere voglio vedere voglio godermi questa serata tranquillo ovviamente con la mentalità sulla vittoria sulla vittoria perché ci serve ci serve ragazzi per la testa per lo spogliatoio questo risultato ci serve questa sera a noi ci serve la vittoria come ho detto non per la classifica non per i punti ma ci serve per la testa ci serve per la testa perché arriviamo arriviamo da un bel momento perché abbiamo vinto col Villareal abbiamo pareggiato col Chelsea abbiamo vinto con l'Arsen abbiamo vinto col Palace ora potremmo fare 5 risultati tra virgolette positivi perché con Chelsea ragazzi quello io non reputo un risultato positivo lo sapete come la penso potremmo arrivare a 5 risultati positivi se vogliamo proprio metterla schietta schietta a 4 risultati positivi perché abbiamo fatto 4 vittorie e un pareggio potremmo continuare quindi questo questo filotto facendo facendo questa vittoria ovviamente però non bisogna sottovalutare l'avversario perché William Boyce ha dato piena dimostrazione anche negli altri scontri contro sia l'Atalanta che il Villareal di essere una squadra che non ti lascia stare non è che è una squadra che adesso metti Remi in barca e dice basta chiudo qui no comunque sia loro se vogliono uscire vogliono uscire a testa alta quindi a Old Trafford ragazzi non lasceranno un centimetro e io me lo auguro me lo auguro che stasera lo Young Boys giochi con il coltello tra i denti perché è questo che ci serve a noi ci servono avversari che giochino con il coltello tra i denti adesso che hanno voglia di vincere così per vedere se riusciamo a contenere con le nostre seconde linee lo Young Boys perché in quel caso se riusciamo a fare una bellissima partita costruita con il gioco con il pressing allora lì ragazzi possiamo dire che anche le seconde linee possono avere un'opportunità di giocare titolare quindi è questo è questo che io mi aspetto stasera io stasera mi aspetto una vittoria una vittoria convincente perché stasera giochiamo con tutta la tranquillità che non abbiamo avuto quest'anno in neanche una partita questa sera noi giochiamo con la tranquillità di aver giocato le nostre carte di essere passati grazie a Kerrick grazie a Olle perché questo percorso in Champions League l'hanno fatto loro l'hanno costruito loro Olle arrivando secondo l'anno scorso e facendo alcune partite di Champions e Kerrick guidandolo United contro il Villareal ci ha portato agli ottavi come primi nel girone quindi stiamo con la tranquillità la spienzeratezza e quindi io voglio vedere questa squadra giocare a calcio giocare quel pressing che tanto Ralf richiede vedere una difesa tranquilla sicura senza problemi e soprattutto qualche giocata qualche sprazzo di qualità lì davanti cosa che si è vista e non si è vista contro il Palace quindi io penso che possiamo anche finirlo qui questo video perché abbiamo poco da dire da controbattere anche perché tante cose che vorrei dire adesso le voglio dire in un apposito video perché ho visto che il video dove vi ho parlato dei giocatori che hanno dei problemi di rendimento vi è piaciuto tantissimo quindi vorrei affrontare il discorso dei problemi in determinate posizioni del campo in un prossimo video quindi nel secondo episodio per chi è stato furpo ha visto che c'era scritto episodio 1 quindi se uno fa 1 più 1 capisce che c'è anche l'episodio 2 ci sarà anche l'episodio 3 che è quello finale speriamo di farlo il più presto possibile prima che Ralf possa fare più partite quindi mettete mi piace se volete quel video e niente ragazzi quindi rimango dell'idea che Ralf sicuramente non preparerà questa partita per dire pareggiamola o possiamo anche perderla io penso che Ralf metterà le carte in tavola vorrà questa vittoria assolutamente perché mi dà anche la dimostrazione della squadra che sei perché stasera ragazzi ha giocato il Liverpool ieri sera avete visto il Liverpool che ha fatto non gliene è fregato nulla del fatto che sono primi si hanno messo i banchinari ma comunque sia il risultato l'hanno fatto punteggio pieno perché le grandi squadre si chiedono da questo prima cosa dalla mentalità che portano in campo quindi io stasera da Ralf mi aspetto che porti quella mentalità che molte volte noi non abbiamo avuto con Olle che è stato uno dei suoi più grandi difetti quindi deve essere quello ragazzi ci deve essere mentalità ci deve stare la voglia di questi giocatori di farsi vedere e soprattutto voglio vedere quel gioco di Ralf ancora a pieno perché col Palace l'ho visto ma è durato solo 45 minuti ragazzi è durato solo 45 minuti quindi io stasera mi aspetto una tirata di più più pressing più chiusure perché se iniziamo a giocare in quella maniera posso vedere grandi cose ovviamente questa sera capiremo insieme come andrà a finire cioè come non andrà a finire ma come la squadra si presenterà però ragazzi se stasera vinciamo convincendo perché quello che vi voglio dire se noi stasera andiamo là e vinciamo facendo il culo agli avversari vuol dire che già la mentalità l'abbiamo un po' cambiata e questo è l'importante io quindi vi saluto vi invito ad impostare il promemoria per la live di questa sera e niente ragazzi ciao a tutti